Teramo non resta indietro nel tornare alla normalità, anzi è già ripartito con la soddisfazione dei residenti il primo mercato alimentare che si è svolto a San Nicolò. A flusso tranquillo e ordinato dei clienti, nessuna resta davanti ai banchi. L'assessore comunale alle attività produttive Antonio Filipponi annuncia che da sabato prossimo, 9 maggio, torneranno in piazza anche gli altri mercati cittadini. Certo non si tratterà del tradizionale appuntamento con ogni sorta di merce, l'ambito sarà invece ristretto alla vendita di prodotti alimentari. Vediamo ora dove saranno situati. Distanziati e ben organizzati, secondo le prescrizioni regionali, i Teramani potranno acquistare prodotti freschi e cotti dai banchi situati nell'area antistante al Santuario della Madonna delle Grazie, a Piazza Verdi e lungo corso a Porta Romana. Operazione non certo facile per il Comune che dovrà applicare le norme previste dalla Regione Abruzzo. In base ad un provvedimento emanato dal Governatore Marsilio in materia, è infatti obbligatorio delimitare le aree destinate ai mercati, attivare un sistema di conteggio degli ingressi e controllare che ad ogni banco non ci siano più di due persone. Inoltre, per quanto riguarda i mercati coperti, tra l'altro rimasti aperti per l'intero periodo di lockdown, da oggi vengono imposti tornelli ad ogni ingresso per facilitare il distanziamento tra i clienti. Misure così tanto restrittive che vengono mal digerite dall'assessore all'attività produttiva Filipponi, che prevede spese aggiuntive molto gravose che il Comune di Teramo non può permettersi. È lui stesso ad inviare una nota ufficiale a Marsilio per avere delucidazioni su chi dovrà sostenere questi nuovi costi che magari potrebbero essere coperti dalla protezione civile. Preoccupazione viene espressa anche dal Sindaco d'Alberto, che ritiene incongruenti con la fase 2 e le misure così tanto ancora fortemente restrittive della Regione al riguardo dei centri sportivi comunali.